Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi parliamo di GTA 6 So che ultimamente sono usciti un bel po' di video riguardanti GTA 6 Ma oggi cercherò di darvi informazioni nuove e cercheremo di collegare insieme il puzzle Per quanto riguarda diversi easter egg, diverse informazioni che sono uscite nel corso del tempo e diverse teorie Ragazzi spero che il video vi possa piacere, lasciate un bellissimo like a questo video Iscrivetevi se non siete ancora iscritti così non perdete i prossimi video Attivate anche la campanellina mi raccomando Detto questo raga direi di iniziare GTA 6 è il gioco più atteso per i fan di Rockstar Anche perché ci siamo un po' rotti di GTA 5 Rockstar continua sempre ad aggiornarlo eccetera eccetera L'unica cosa nuova che vorrei vedere su GTA 5 sarebbe un DLC per la storia Ma quello chissà se mai arriverà, non si sa Ma tutti vogliamo GTA 6, GTA 6, GTA 6 e GTA 6 Quindi ragazzi che cosa sappiamo di questo gioco? Si è scatenata una polemica per quanto riguarda una foto che va girando su GTA San Andreas All'interno del Problem Inn Per chi non lo conoscesse ve lo spiego È un ristorante a tema UFO, a tema alieni Vicino all'area 69 Ecco beh, all'interno di questo locale ci sono diverse immagini Che raffigurano i diversi giochi di Rockstar In passato nella versione originale di GTA San Andreas C'erano foto normali di UFO Insomma foto ritoccate con degli UFO Ma in questa versione, in questa Remastered Ci sono immagini di Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2 Con degli UFO Ci sono quindi diverse immagini su questi giochi Ma c'è un'immagine singola In particolare che non è riconosciuta in nessun tipo di gioco È la foto di una casa bianca Che sembrerebbe essere la tipica casa della Florida Io credo che questo possa essere un vero e proprio easter egg Per quanto riguarda GTA 6 Vi spiego perché Perché Rockstar quando costruisce le case Quando costruisce gli edifici In pratica non fa un copo e incolla Ma prende degli spunti E crea delle somiglianze diciamo all'80% Questa casa qui è molto simile alla casa vera e propria Che è stata trovata in real life Ci sono molti dettagli Molte cose uguali Simili dall'aspetto della casa Alla posizione degli alberi Alla posizione anche del fogliame che si trova dietro la casa Questa è una casa effettivamente che si trova a Miami E la somiglianza c'è Vi faccio vedere anche come lavora Rockstar È stato creato un sito da dei fan di Rockstar Di GTA 5 Che mostra come le case su GTA 5 Sono molto simili alle case reali In pratica potete andare un po' in giro ovunque su questa mappa qui E vedrete le case come sono uguali a quelle della realtà Io vi faccio vedere qualche esempio Ma vi lascio qui sotto nei commenti o nella descrizione Il link per poter accedere E fate voi insomma i confronti Fate voi un po' tutto Perché io credo che effettivamente GTA 6 sarà ambientato a Miami Ma non solo chiaramente Poi vi spiego anche perché Perché Rockstar oltre a GTA San Andreas Ha aggiunto anche un altro riferimento a GTA 6 A quanto pare Direttamente in Vice City Che si trova appunto a Miami In pratica Rockstar precedentemente sui giochi vecchi Faceva notare molto il suo marchio Infatti c'era una piscina a forma di R Con la stellina A 5 punte Per ragazzi Nella versione Definitive Edition La stellina è a 6 punte Voglio dire È una coincidenza? Io non credo Adam Kadmon No Nel senso che effettivamente Rockstar ci sta mandando Quasi quasi dei chiari segnali Per quanto riguarda GTA 6 Cioè voglio dire Una piscina che si trova a forma di R Improvvisamente la stellina a 5 punte diventa a 6 punte Guarda caso a noi stiamo aspettando un GTA 6 E guarda caso tutti quanti lo vorrebbero a Miami E questo S-Rag si trova proprio a Miami Cioè ragazzi ma di che cosa stiamo parlando? Questo è secondo me l'S-Rag Che quasi quasi conferma GTA 6 Che si troverà a Miami Poi chissà eh Voglio dire Chi vedrà vedrà Succederà Vivrà Vabbè Chi vivrà vedrà Inoltre facendo un passo indietro Vedendo dei possibili leak Rumors riguardanti GTA 6 Feci un video al riguardo Dissi che avevo trovato un'immagine su internet Che faceva vedere GTA 6 in fase di sviluppo Infatti c'erano delle costruzioni ancora non detexturizzate Insomma non definite Non completate La mappa che aveva qualche buco Ed effettivamente quella mappa Quella zona sembrava la costa di Miami Infatti dei giocatori avevano preso e cercato su Google Delle somiglianze riguardanti la mappa E avevano trovato effettivamente delle somiglianze in una zona di Miami Questo continuando anche a dire che Rockstar non fa copia e incolla Ma prende le zone e le ridimensiona a suo piacimento Lasciando le cose più iconiche chiaramente Poi vi dico anche una scemenza GTA 6 V I Vice City Vice City Voglio dire Questa cosa Cioè mi fa esplodere la testa Poi chissà se magari Rockstar ci sta trollando tutti E magari GTA 6 non sarà abbientato a Miami Ma non si sa Cioè non lo so Ragazzi potrebbe essere di tutto Ma le teorie concidono un po' tutte Voglio dire È Rockstar stessa che ci sta trollando in una maniera incredibile Lasciando delle foto su San Andreas Sapendo che è un posto stra visitato Che prima o poi sarebbe stata trovata quell'immagine È stessa cosa per quanto riguarda la R Con la stellina a 6 punte Su Vice City Sono cose che direttamente Rockstar ci dice O meglio Degli sviluppatori Ci stanno dicendo Ci stanno mandando dei segnali Riguardante GTA 6 Che magari hanno qualche piccola informazione in più Magari non sanno praticamente niente Ma sanno almeno dove è ambientato E ci stanno trollando O ci stanno dando dei chiari segnali Poi voglio dire anche una cosa Riguardante GTA 6 Considerate che ora come ora GTA 5 ha fatto esplodere l'online Quindi in GTA 6 ci sarà per forza l'online E ci sarà in una maniera ancora più incredibile Per come l'abbiamo conosciuto Una cosa ancora più bella secondo me Quindi Rockstar non abbienterà GTA 6 solo a Miami Ma se chiaramente sarà una parte di mappa E secondo me ci sarà Miami Con tanti altri stati vicini O comunque come è successo con Los Santos Che ci sta Los Santos E poi sopra Sandy Shores e Paleto Bay Ci sarà qualcosa di estremamente grande secondo me Per esempio una Liberty City Io non la vedrei bene Per quanto riguarda l'online Cioè secondo me Per l'online ci deve stare La giusta proporzione di mappa Con la città E altrettanto una mappa Diciamo desolata Con un po' Con meno civiltà ecco Con meno costruzioni E con meno cose Un po' come appunto Paleto Bay e Sandy Shores Che fanno la loro sporchissima figura Questo video è arrivato un po' in ritardo Ragazzi Ma presto porterò anche Un altro video Per quanto riguarda Un personaggio Che secondo me È sicuro Che ci sarà su GTA 6 Sicuro come la morte Ho qualche riferimento a quest'ultimo E spero che quel video Vi possa piacere Inoltre per ultima cosa Vi voglio ricordare Che Rockstar agisce proprio così Nei giochi Inserisce degli easter egg Riferendosi ai prossimi capitoli Dei suoi giochi Per esempio In GTA 3 Aveva messo un cartellone pubblicitario Che riguardava questa compagnia aerea Che in sostanza diceva See you a Miami Cioè ci vediamo a Miami Poi in questa Definitive Edition Quel cartellone Non c'è più E l'hanno modificato Mettendo Fly Us Era giusto per dirvi Che Rockstar agisce proprio così Da GTA 3 fa riferimento a Vice City Da Vice City Non ne ho idea Ma per esempio In GTA 4 Avevano fatto riferimento Proprio a GTA 5 Con un'immagine di Winewood Con degli aerei Con un'immagine vera e propria Di GTA 5 E stessa cosa faceva anche Tra altri giochi Per esempio Max Payne Aveva messo dei modellini Di aerei Di GTA 5 Insomma Fa continui riferimenti Ai suoi giochi In costruzione In produzione Non si sa se è Rockstar stessa Che ordina gli sviluppatori Di mettere qualche easter egg Tipo Ben pianificato Ben piazzato Insomma Praticamente così nascosto Giusto per far creare un po' di hype Per far parlare il gioco da solo Perché chiaramente Io facendo questo video Sulla trilogy Su GTA San Andreas E quant'altro Sto facendo pubblicità gratuita A questo gioco E Rockstar sa come muoversi A livello di marketing Avrà i peggio I migliori consulenti Di marketing Sulla terra Secondo me O almeno nell'ambito Di videogiochi Perché magari voi Che state guardando questo video Non avete comprato ancora La trilogy Ma siete interessati a GTA 6 O comunque siete interessati A quello che Da vedere sulla trilogy Vi starete riempendo La pagina principale di youtube Di video Solo sulla trilogy Di conseguenza Anche le pubblicità Che vedrete su internet Saranno riferite Alla trilogy di GTA Eccetera 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 E voi un giorno Questa trilogy La comprerete Ed è così Che Rockstar Fai i soldi Prendendoci per il culo Non so se piangere o ridere